Quando Luca, a 31 anni, apre la porta della casetta in legno, si imbatte nella scena più tragica che un figlio possa immaginare. I genitori sono impiccati, il ragazzo che viveva con loro compone subito il 118, ma quando il personale medico arriva nella villetta di via Moscardina a Pianezze, nella cintura bassanese, per i due non c'è già più nulla da fare. L'esame esterno del medico giunto sul posto chiarirà poi che la morte potrebbe risalire alla serata di mercoledì, quindi a 24 ore prima del ritrovamento. La scena che ci si è parata davanti a seguito di un'attivazione sul 112 è quella di due coniugi deceduti in piccagione all'interno di un capanno degli attrezzi. Stiamo vagliando l'ipotesi che comunque al momento dai primi rilievi tecnici effettuati esclude l'intervento di terze persone. Le ipotesi sul tavolo degli investigatori rimangono dunque circoscritte nel perimetro del duplice suicidio o di un omicidio suicidio. La seconda è la pista calcata con più convinzione dagli investigatori. L'uomo, il pensionato 58enne Walter Magrin, potrebbe in qualche modo aver convinto la moglie Paola Bosa di 56 anni ceramista a togliersi la vita per poi compiere a sua volta il gesto estremo. Sul corpo dei due non è stato trovato alcun segno di violenza. Per questa ragione, secondo gli inquirenti, la donna non avrebbe ostacolato il marito nel mettere a punto il suo piano. Non ci sono segni di violenza esterna, non ci sono segni di penetrazione dall'esterno all'interno dell'abitazione. Toccherà all'esame autoptico chiarire come siano andate le cose ed in quali condizioni psicofisiche si trovassero i due. E impregrammo un'autopsia come è stato confermato al pubblico ministero di turno. Se sulle modalità in cui è terminata la vita dei due coniugi potranno essere d'aiuto agli accertamenti necroscopici, per fare chiarezza sulle ragioni che hanno spinto al gesto estremo, invece con buona probabilità faticherà ad esserci qualcosa di certo. Nessun biglietto che giustifichi in qualche modo la loro scelta, né una situazione economica o di depressione conclamata, tale da giustificare agli occhi della comunità quel che è successo.